Il Presidente ci ha dato una gran carica perché il Presidente è una persona che ha una carica interiore immensa. È venuto dentro lo spogliatoio e ci ha detto quello che pensa di noi e quello che vorrebbe da noi. Ed è giusto perché si aspetta tanto da noi, perché ci ha dato tanta fiducia e quindi noi adesso dovremmo ripagare la sua fiducia. Dobbiamo andare a Rimini e dobbiamo andare a fare il risultato per forza, perché una vittoria ci darebbe anche morale. Siamo una grande squadra e non è questa la posizione che meritiamo. Quindi andiamo a Rimini, andiamo a fare una grande partita e cerchiamo di fare il risultato. Chiaramente abbiamo fatto degli errori e ne siamo consapevoli. Adesso stiamo lavorando duramente in allenamento per cercare di non ripetere questi errori sia di riparto che singolarmente. Adesso con il Mister stiamo lavorando veramente, stiamo lavorando tanto e speriamo in futuro di non ripeterli più. Quando parlo di lavorare io intendo tutto, sia tatticamente che anche fuori dal campo a livello mentale. Noi abbiamo una grande squadra, noi dobbiamo pensare partita dopo partita, cercare di fare il risultato partita dopo partita e poi tireremo le somme. Comunque siamo una squadra da alta classifica e ne sono sicuro che arriveremo dove meritiamo. Comunque siamo una squadra. Grazie a tutti.